che è già successo che ti hanno chiesto ma tu che intenzioni hai buone ma che cos'è l'intenzione io ho spiegato in altri video che la nostra energia vitale segue l'attenzione quindi l'energia vitale segue l'attenzione i politici religiosi oggi quello che chiamo il mercato il grande mail marketing le aziende vogliono la tua attenzione per quello che esiste la pubblicità una volta esisteva la predica e tutto era controllato dai predicatori che parlavano delle leggi di dio e che se tu non fai quello che diciamo noi dopo la morte va all'inferno ho detto in due parole poi sono entrato in scena la propaganda i politici provate a vedere quando sono le elezioni a destra a sinistra al centro come si assomigliano gli slogan elettorali un nuovo inizio c'è gente che politica da vent'anni che ti promette un nuovo inizio un cambiamento si assomigliano cambiano gli i simboli ma le parole quindi la propaganda poi chi ha preso il potere la pubblicità quando persone belle adesso ultimamente hanno capito che anche una donna con qualche chilo in più a chiappa una volta c'era che la pubblicità doveva essere fatta solo da uomini belli e donne belle adesso hanno capito che anche uno che magari non è bel però è caratteristico quindi una che fa la cuoca che ti dice quel burro li va bene oppure uno che non è che però sale su una macchina e si sente qualcuno ma c'è un'altra cosa l'energia vitale segue l'attenzione l'attenzione l'intenzione ecco il titolo c'è un flusso di emozioni e di pensieri nella nostra mente 24 ore al giorno anche durante il coma io vito sempre a leggere il mio libro che ho scritto incontro con la chiara luce perché spiego che anche durante il coma se lo vuoi te lo mando perché non è in commercio è uscito tante edizioni adesso l'ultima lo stampata io fatta stampare e ricavato va tutto in beneficenza a libera condivisione onlus che trovi su facebook c'è una pagina libera condivisione facciamo programmi umanitari in africa e in india programmi umanitari vuol dire che facciamo dei puzzi per l'acqua scuole abbiamo creato case per chi non c'ha la casa abbiamo un orfanotrofeo per i bambini in india abbiamo cioè abbiamo sosteniamo un lebrosario quindi fai del bene torniamo all'intenzione in questo flusso cosa bisogna fare bisogna mettersi lì no bisogna avere le idee chiare l'intenzione è mia l'intenzione è buona la decido io quindi tutti gli stimoli le pubblicità tutta la logica tutto molti artisti sono artisti ma si vendono trovate tanti artisti che si vendono o per il caffè o per la macchina si chiama la pubblicità sembra una cosa onesta cosa fai faccio la pubblicità sì ma sei venduto se la prostituzione è che una donna vuole soldi o adesso ho letto che per molti anni la prostituzione era una donna che ha rapporti sessuali a pagamento con un uomo ho letto un articolo dice adesso ci sono anche uomini che a pagamento con altri uomini chiunque vuole avere intimità fisica a pagamento prostituzione ma a livello sessuale ma c'è un'altra prostituzione vendere la propria immagine vendere la propria immagine in cambio soldi soldi e io mi faccio fotografare col caffè con la macchina col burro con con quel tipo di 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 biscotto con quel tipo di profumo con quel tipo di shampoo è una forma di prostituzione quindi la tua intenzione è scegliere la qualità quindi quando compri leggi bene le etichette una volta in un supermercato a forza di legge l'etichetta dei biscotti facciamo prima a scrivere non c'è il biscotto non ci sono coloranti non c'è lo zucchero non c'è lattosio non c'è l'olio di palma chi c'è ha fatto più c'era più la lista di quello che non c'è scritto in è quello che c'è piccolissimo quindi la pubblicità io ti consiglio di avere delle buone intenzioni mantiene delle buone intenzioni fai in modo che ogni esperienza diventi una buona intenzione e se sbagli perché è facile sbagliare trasforma gli errori in esperienze conoscitive studiando le cause le causa cioè un cibo mettiamo una scadenza lo mangi stai male non avevi visto la scadenza succede quindi studiare bene analizzare bene la sequenza e capire che se il risultato è negativo la prossima volta leggi meglio l'etichetta un esempio facciamo l'esempio delle relazioni delle relazioni molti mi hanno detto come faccio a capire se quella donna mi ama come faccio a capire se quell'uomo mi ama ecco io ho detto è semplicissimo guarda come tratta se stesso se salì macchina di uno che ti ama ma la macchina è sporca non andare a vivere con lui perché in quel momento si fa la doccia si da una ripulita per far colpo poi una volta che c'è la convivenza io ho parlato con tante persone che finita l'euforia dell'innamoramento del fidanzamento poi il disastro perché perché chi non sa amare non riesce ad amare ma come faccio a capire se uno sa amare guarda se ama se stesso se pigro trasandato mangia male tiene male la macchina tiene male la casa parla male degli altri chi parla male a te degli altri prima o poi parlerà agli altri male di te attenzione perché deve parlare male di qualcuno ci sono certi che si drogano di maldicenza non riescono a vivere se non parlano male di qualcuno quindi puoi chiamarlo tradimento maldicenza allora studia le tue intenzioni se le tue intenzioni sono buone produrranno sempre e soltanto effetti positivi quindi l'energia vitale segue l'attenzione l'attenzione segue l'intenzione tra l'attenzione e l'intenzione sono organizzazioni internazionali organizzazioni locali persone che vogliono prendere la tua attenzione compromesse o critiche stai attento quelli la quelli la stai attento ai comunisti stai attento ai fascisti stai attento alla chiesa stai attento agli atei cioè ti fanno il gioco delle parti tu decidi tu decidi tu pensate che la filosofia occidentale la fanno nascere con platone e socrate e dimenticano pitagora perché pitagora era greco è andato in egitto è andato in india è tornato qua il quadro in italia è andato a crotone e che cosa diceva io sono amante della saggezza della conoscenza sofia vuol dire la conoscenza la saggezza filos ma allora perché inizia con socrate mistero che poi platone aveva imparato delle cose da pitagora tutta l'accadebia platonica ad atene la scuola filosofica però perché socrate diventa un po il simbolo perché socrate diceva io una cosa la so una quale io so di non sapere cioè l'ammissione della sua ignoranza fece sì prima secoli prima di gesù cristo che diventava un pericolo e gli hanno detto tu sei un pericolo quindi o ti facciamo fuori o bevi il veleno la cicuta perché pitagora ha tornato dall'india aveva sviluppato dei siddi dei poteri non va la non va in crescita perché dice lì c'è la tiranide è che quella che fa fuori socrate quindi attenzione a quelli che temono la tua libertà il tuo amore per la conoscenza è filosofo ogni spirito incarnato che ama la conoscenza quindi si filosofo si filosofo si amante della conoscenza e fa in modo che le tue intenzioni siano spirituali fai scelte spirituali il caso non esiste tieni d'occhio il tuo livello di coscienza ciao